Sabato 8 settembre alle ore 18.30 nella chiesa parrocchiale Santa Teresa del Bambino di Gesù, durante una solenne celebrazione liturgica presieduta dall'arcivescovo primate di Salerno Luigi Moretti, verrà consacrato sacerdote il diacono Antonio di Arienzo. Lo stesso novello presbitero celebrerà la sua prima solenne messa domenica 9 settembre alle ore 11 nella stessa chiesa. Il novello sacerdote verrà nel contempo nominato vicario parrocchiale della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù in Battipaglia come primo collaboratore del parroco Don Fernando Lupo.